Ci saranno solo gli Stati Uniti, è il momento di curare e riconciliare l'America intera. Joe Biden vuole unire, ricompattare tutti i voti, anche i 71 milioni dati a Donald Trump, che ripete non è ancora finita e al suo risveglio, dopo 10 ore di silenzio, scrive su Twitter. Negli USA c'è una lunga tradizione di problemi elettorali, alla ricerca di precedenti storici, come a dire non sono il solo a contestare voti, ma lo è, né non invitare il vincitore alla Casa Bianca, non lo farò, ripete. Biden per ora non se ne cura, ringrazia e lavora. Pronta la task force per frenare la pandemia? Solo così riparterà l'economia, dice l'opposto del Trump pensiero. Agende fitte anche su ambiente, antirazzismo, sanità, politica estera per ribaltare quattro anni di gestione trumpiana. L'exata icone invece lotta per la sua, dice Vittoria Rubata, punta su quei governatori che non hanno ancora ratificato i risultati elettorali.